Battaglia nel fango. Un derby d'altri tempi nel recupero del campionato di promozione gironea tra Vaianese Impavida e Maliseti. È finita uno a uno nell'acquitrino del comunale di Vaiano al termine di un derby combattuto, giocato per quello che si è potuto su alti ritmi, senza esclusioni di colpi. Un pareggio che fa classifica per il Maliseti, sempre impegnato nella corsa playoff. Credo sia stato un derby condizionato dalle tante assenze, dall'una e dall'altra parte e purtroppo anche dallo stato del terreno di gioco, ma dopo due giorni consecutivi di pioggia non ci si poteva aspettare grandi cose. Un pizzico di rammarico invece per la Vaianese Impavida, ancora una volta costretta a rimandare la vittoria a Casalinga e di accontentarsi della partizione della posta in palio. Le due squadre si sono affrontate a visaperto, hanno giocato anche una buona partita con questo campo qui. Non lo so chi ci ha rimesso, non lo so perché la partita è stata giocata e non è che si è visto delle situazioni dove magari penalizzava qualcuno questo campo perché anche noi abbiamo le punte veloci. Primo tempo avaro di emozioni, con l'unica nota riportata sul taccuino, il palo colpito in mischia dall'amaranto Damiano Melani. In avvio di ripresa poi la rete del vantaggio dei Valbisentini con l'attaccante Lava che aveva in luso la formazione della Vaianese Impavida. Se vincevamo non avevamo rubato niente perché dopo l'1-0 abbiamo avuto due splendide occasioni in contropiede, però alla fine questo campo era la logica che andava a vantaggio, aveva più vantaggio degli altri, però non eravamo male, abbiamo preso un gol, forse si era piazzato anche bene, 3 contro 1, siamo andati tutti a 3 a saltare, si è lasciato in questo corridoio, però va bene, molto va bene visto anche l'assenza si aveva. A dieci minuti dal termine il pareggio del Maliseti con il guizzo del giovane Molinaro. È una vantaggio dove di solito che va in vantaggio lo porta in fondo, siamo stati bravi a ritrovare il pareggio, si è rischiato magari anche il contropiede che... per fortuna, insomma, per imprecisione loro non hanno chiuso la partita. Ultima annotazione è la maledizione meteorologica che si è abbattuta sul derby, prima il rinvio per la neve, poi il campo pesante e la pioggia battente. La morte della neve, poi questo campo, anche se non c'è la neve e la pioggia.